Per la prima volta oggi celebriamo l'Eucaristia in onore del Beato Pontefice Giovanni Paolo II che tutti abbiamo conosciuto e amato e che riconosciamo partecipe della eterna Beatitudine. Iniziamo questa celebrazione aprendo con fiducia il nostro cuore alla misericordia del Padre Gliere 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 Grazie a tutti. Inestabile il mondo non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine.